Raffaele Di Gennaro noi lo andiamo a salutare, lo rivediamo dopo tempo con piacere. Intanto, come stai, che effetto ti fa tornare qui in questo stadio? Quello che è stato un po' il tuo stadio. Sì, sempre un bel effetto, anche se era Coppa Italia, anche in un orario un po' alle due e mezza. Però è sempre bellissimo, sempre emozionante tornare qua a Pescara. Intanto la spalla sta benissimo, stai facendo un grande campionato. Gubbio nelle zone altissime, Pescara nelle zone altissime. Speriamo di rimanere entrambi in quelle zone lì, ancora più alti voi. Noi va bene così, perché siamo primi per adesso, però il campionato è lungo e speriamo che entrambe riusciamo a salire. Ma come la domenica guardi ogni tanto il risultato del Pescara? Sì, sì, sempre. Quanto sei stato vicino, adesso ce lo puoi dire quest'estate a tornare? Perché il nome tuo per 3-4 giorni sembrava, oramai cosa fate, il ritorno a Pescara. Firma che non arrivava a Gubbio, attendevano il fax di ritorno a Pescara. Che cosa è successo? Sì, il Gubbio mi ha fatto sentire la sua grande voglia di avermi e ho accettato questo progetto che è biennale. Quindi stiamo facendo bene, stavano facendo una grande squadra e ho accettato Gubbio. Diciamo che è mancato il biennale a Pescara? No, va bene entrambe le cose, però la carriera è ancora lunga, quindi aspettiamo e vediamo. Ti chiedo un'ultima cosa, ti chiedo, lo scorso anno fino a quella partita con l'Olbia, quando hai avuto la frattura della clavicola, sei stato il migliore in campo per distacco del Pescara, poi hai visto un po' da spettatori il resto della stagione. Qual è stato il problema l'anno scorso, Raffaele, secondo te? A mente fredda e senza polemica? No, forse eravamo un po' discontinui, magari riusciamo a fare grandissime partite e poi magari steccare una partita in casa con una squadra più abbordabile di noi e così non riesci a vincere i campionati e devi essere sempre sul pezzo, tutte le partite devi cercare di vincerle e quello ci è mancato un po'. Se a gennaio Arena ti dovesse chiedere un consiglio perché magari arriva una chiamata dal Pescara, che gli consigli? Eh, di venire. Facciamo una domanda a Raffaele Di Gennaro, Massimo, mettiamo il microfono e ti ascolta. No, io non posso che fargli i complimenti, lui è molto sfortunato, quando fu ingaggiato dal Pescara ho sempre detto questo è un portiere top, non solo in Serie C ma anche in Serie B dove ha giocato stabilmente per tanti anni, quindi io non mi so spiegare questo percorso, questa carriera da parte sua probabilmente è stato sfortunato, problemi fisici, per me avrebbe meritato ben altro. Grazie, grazie delle parole, però adesso siamo qui e dobbiamo fare sempre il possibile per tornare a dove eravamo, ma anche meglio, quindi io ci credo sempre e ogni partita vado in campo per dimostrare il mio valore, per vincere insieme alla squadra.